mai, quando mai così tanto tempo perché non avevo visto la liana non avevo visto la liana adesso però ho tutte easy uomo ok ci spostiamo come le regoline no comment ragazzi proprio da no comment ragazzi sapete già quando mi vedete con questa maglia siamo sulla serie di minecraft parkour allora ragazzi siamo rimasti dove eravamo rimasti direttamente l'altra volta e ovviamente penso di avervi messo tipo un counter dei livelli che andiamo a tipo a fare ok un counter dei livelli che andiamo a fare ovviamente nel primo episodio ne avremo fatti un botto anche nel secondo penso non so quanti adesso non ho ancora editato uno perché è sempre la stessa sera quindi ci siamo capiti e però boh è carino ditemi ditemi se lo continuate cioè se lo volete comunque oppure no allora 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 perdere tempo in questo livello qui che c'è giusto quel passaggio difficile questo qui che poi avete visto che non lo è neanche più di tanto però A presto! A presto! Perché non avevo visto l'aliana Non avevo visto l'aliana Adesso però Tutte Ok, ok ragazzi Ok ragazzi, niente male, niente male Non abbiamo fatto neanche un livello Siamo a quasi 5 minuti E 30 secondi Di registrazione Ok Cioè ragazzi Oramai Questa qui è una passeggiata Dobbiamo essere un livello più alto Quindi qui Ok Magnifico We are the champion My friend Ok, allora Prendiamo il... Perché non si sa mai Ah ok, ok, ok In teoria Dobbiamo buttarci Lì sopra Ok Però avete capito Quello che volevo intendere io Perchè? 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 Prima ci è andato tipo di botta di culo Invece no, basta guardare di fronte Ok 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 Preso, perfetto Teniamo premuto Ah no, ok, di là, di là, di là Va bene, va bene, va bene Ok Ok Oh mio dio, oh mio dio, mio dio Video, vidi Ok, perfetto 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, easy Easy, easy uomo, easy Ok Easy uomo Easy uomo Easy uomo Ok Ci spostiamo come la regolina Quella Ok 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 raga è io che voglio fare chest locket io che volevo fare un video al giorno cioè questa qui prima la devo registrare la dovrò registrare prima sapete no? cioè io questi video che state vedendo io li ho pre-registrati ciò vuol dire che magari è un mese che ci sto lavorando per farlo uscire tutti o un giorno o cosa vuol dire? io non mi ricordo o una settimana cioè non sono usciti così a random in qualche modo dobbiamo saltare lì sopra ah noi possiamo noi possiamo saltare tipo lì ok non so come però secondo me possiamo saltare lì sopra anzi lì sopra lì sopra dobbiamo saltare l'avete visto? eccolo lì eccolo lì eccolo lì eccolo lì quello che volevo dire io ragazzi eccolo lì quello che volevo dire io va bene 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 al primo, al primo, al primo tutto quello ragazzi, tutto quello questo qui, cioè io so come devo saltare ma devo suicidare ragazzi non ce la stavo facendo niente, questo qui non si sa come ha preso le mie dita sanno il timing e no però io se ti premo shift io se ti premo shift però shift serve per non far cadere dal blocco non per cevolare sulle bucce di banana ecco adesso le dita hanno perso il timing guarda, guarda e invece no, e invece no, e invece no dai dai dai, su via su via ragazzi, cioè un salto che boh anche uno che non sa i tassi su minecraft lo può fare ragazzi, vedete la fretta la fretta, cioè siamo a 15 minuti di video che siamo riusciti a fare? quanti livelli? 2 2 2 ma perché? beh, ma cosa vuol dire? ma cosa vuol dire? ma cosa vuol dire ragazzi? cioè ma cosa vuol dire non prendere quella scaletta lì? ma cosa mi significa? più che altro come non la riesco a prendere quella scaletta lì? per quanto non la prendi? cioè cosa vuol dire? boh no comment ragazzi proprio da no comment proprio da se mi spiace se oggi cioè se oggi abbiamo fatto tre livelli adesso tre con questo quattro con questo non lo so però non sto assolutamente capendo ma zero proprio ragazzi zero che bello ragazzi goduria assurdo avevo detto che finivamo il livello prima di arrenderci dopo 22 minuti di registrazione io direi che è tutto per questo terzo episodio terzo episodio quindi dai un bel pollice visto iscriviti al like e bella guy ciao